Scoprire che l'appartamento accanto al suo stava ricevendo la visita dei ladri gli è costato una ferita alla testa e contusioni varie su tutto il corpo giudicate guaribili in 20 giorni. La polizia è arrivata all'alba in un'abitazione di via Grigoletti a Mestre. Ad attenderla un 27enne visibilmente scosso e ferito. Il giovane è raccontato di essere stato svegliato attorno alle 4 di notte ed alcuni rumori provenienti dall'appartamento a fianco. Insospettito anche dal comportamento del proprio cane che puntava verso la porta e uscito sul pianerottolo trovando spalancata la porta di casa dei vicini in vacanza. Entrato nell'appartamento sarebbe stato aggredito a colpi di bastoni o spranghe da due uomini che si sono poi dati alla fuga. I poliziotti della questura hanno subito dato avvio alle indagini.